buongiorno oggi passiamo in rassegna un pochino di marze di varie specie frutticole e seguirà una breve descrizione del loro utilizzo negli innesti primaverili in questo primo caso abbiamo marze di albicocco susino cino giapponese pesco però ciliegio nel caso dell'albicocco il ramo di un anno che vedete qui nel video è quello che si utilizza per fare gli innesti primaverili a spacco triangolo corona doppio spacco inglese quindi sono rami di un anno che portano sia gemme a fiore che gemme a legno le gemme a fiore generalmente sono quelle laterali mentre quella centrale è quella a legno e l'albicocco è dotato anche di numerose gemme di riserva quindi nel caso si dovesse rompere la gemma principale ci sono sempre molte gemme a disposizione a legno la parte migliore nel caso dell'albicocco è sempre quella che va dalla metà in giù come in tutte le specie frutticole però normalmente se è ben lignificato può essere utilizzato quasi fino in cima naturalmente se si deve innestare a vivaio quindi piante generalmente non molto grosse si possono utilizzare anche marze di questa dimensione mentre nel caso di cambi di varietà è meglio affidarsi a marze più grosse come questo ancora di più questo perché le piante adulte sono anche molto più lignificate sono grosse quindi una marza grossa aiuta anche a chiudere prima il taglio susino cino giapponese anche qui abbiamo rami di un anno qui vedete c'è l'inserzione del ramo di un anno nel punto dove termina quello di due anni quello di due anni è facilmente riconoscibile per una diversa diverso aspetto e per la presenza di numerosi mazzetti fiorali mentre in quello di un anno ci sono le gemme a legno con le gemme a fiori laterali anche il susino cino giapponese può essere utilizzato praticamente quasi tutto perlomeno fino dove è lignificato quando ad esempio si arriva in questa zona siamo a parte che è molto sottile inizia ad essere un pochino esile quindi è sempre meglio affidarsi alla parte che va dalla mediana in basso non ci sono mai limitazioni di lignificazione quindi se è molto lignificato la marza va sempre bene considerate che comunque queste sono le marze migliori le prime tre o quattro sicuramente non presentano mai problemi di attecchimento sono quelle che danno la garanzia migliore pesco il pesco presenta rami che hanno anche loro nel ramo di un anno sia la gemma legno centrale che le due laterali a fiore però a differenza del susino cino giapponese dell'albicocco il pesco non ha gemme di riserva quindi se si rompe la gemma centrale quella gemma non parte più inoltre quando si mette sulla marza se ci si accorge che c'è una gemma rotta sarebbe meglio scartarla o almeno chiudere con una goccia di mastici o di catrame il buco dove c'è la gemma rotta però è sempre meglio partire comunque con gemme integre questo vale per qualsiasi specie quando vi accorgete che ci sono delle lesioni delle rotture e naturalmente si dà per scontato che siano sane e non siano visibili delle malattie come moniglia fusicocco cancri rameali eccetera eccetera quindi bisogna partire sempre con materiale possibilmente perfetto nel caso del pesco la parte migliore è sempre quella lignificata dove inizia ad essere rosso come in questo caso qui è già una marza che da scarse garanzie di attecchimento specialmente se si utilizza il catrame a caldo ma in generale questa regola vale per tutti i tipi di materiali di copertura nel pesco normalmente la parte da utilizzare è quella che va dalla base più o meno fino alla metà ma generalmente è difficile fare più di due marze in un succhione di pesco perché spesso dalla parte mediana in su inizia ad essere rosso qui siamo già al limite questo è un succhione dove si potrebbero fare anche tre marze ma mediamente nel pesco è difficile andare oltre le due nel caso del pesco sono anche presenti spesso nei succhioni dei rami anticipati a volte presentano due gemme si vedono ad esempio qui che sono vicine al punto di inserzione nel ramo in quel caso quelle due gemme a legno sono buone anche per essere utilizzate per la marza in quel caso se ci fossero le gemme andrebbero cimate in questa posizione qui di riuscire a tagliarla in questo modo e il taglio della mars del ramo anticipato va chiuso con una goccia di mastice altrimenti la marza nel pesco sicuramente non attecchisce è molto più difficile che siano presenti dei rami anticipati nel susino e nell'albicocco a volte come in questo caso nel susino c'è qualche dardo o qualche accenno di ramo anticipato anche in questo caso ci sono gemme basali come si vede qui e qui si può utilizzare comunque la marza lo stesso chiudendo in ogni caso con una goccia di mastice il taglio effettuato sul ramo anticipato nel vero i problemi sono molto meno se il ramo è lignificato è praticamente buono fin in cima come in questo caso qui tra l'altro che abbiamo marze abbastanza sostenute gemme a legno ci sono gemme di riserva quindi il pero normalmente non presenta grossi problemi nel ciliegio gemme a legno su ramo di un anno per il ciliegio vale il discorso del pesco non ci sono gemme di riserva quindi se si rompe la gemma quella gemma non parte normalmente nelle marze si lasciano 3 4 gemme poi dipende sempre da uno come abituato io personalmente taglio le marze prima quindi le taglio a misura di circa una quindicina di centimetri quindi in alcuni casi possono esserci tre gemme in altri possono esserci neanche 4 5 ma questo non è un problema perché poi quando i germogli partono si selezionano i migliori uno o due e gli altri vengono inizialmente cimati poi eliminati solo quando lo sviluppo dei germogli prescelti è sufficientemente lungo nel caso del ciliegio le marze sono buone praticamente fino in cima non è diciamo non è raro anzi è frequente che la marza tecchisca anche con la parte estrema con la punta e le gemme di punta questo caso è un ramo tra l'altro molto molto ben lignificato anche abbastanza sostenuto quindi possiamo dire che potrebbe essere utilizzato tutto